Nelle mail che mi mandate spesso dite, chissà se Morelli leggerà queste mie mail, vi sbagliate perché io le leggo tutte le mail e non me ne perderei una per nessun motivo al mondo. Quelle che lascio a metà e che non leggo sono quelle che raccontano la propria storia andando a recuperare tutto ciò che gli è accaduto nel passato. L'altro giorno una signora mi ha riconosciuto e mi ha detto dottore io seguo Rizza da molto tempo, devo dire che mi ha aiutato moltissimo, il mio migliore amico che stava molto male l'ha seguita a lungo nei blog, ora sta meglio, però vede dottore io ho una convinzione che dai traumi, da certi traumi non si può uscire. E gli ho detto vede signora se lei ha questa convinzione nessuno gliela toglierà. Ho lavorato parecchi mesi per scrivere questo manuale di autoguarigione ed è tutto dedicato alle vostre mail. Ho scelto quelle in cui voi parlate di come siete riusciti a superare il disagio, superare una crisi abbandonica, superare l'ansia che durava da tanto tempo, aver smesso gli psicofarmaci perché questo è il lavoro di Rizza, degli psicoterapeuti di Rizza, degli psicologi che lavorano qui, degli esperti che sono qua. Il nostro lavoro consiste semplicemente nell'occuparsi dello star bene con se stessi, ma per star bene con se stessi e vincere i disagi bisogna non avere convinzioni. Io tengo moltissimo a questo manuale perché ho voluto segnalare come se noi spostiamo lo sguardo dal disagio, se diciamo queste parole magiche, io sto soffrendo e non ci posso fare niente e il disagio sta qui con me e io lo accolgo, allora si possono aprire delle porte che l'energia cerebrale più antica, quella primordiale, sa scavalcare. Eh dottore ci vuole tempo, non è vero che ci vuole tempo, ci vuole un altro sguardo. Se guardo il disagio, e questo è il lavoro di questo manuale, se guardo il disagio e mi dico il disagio è qui e non ho niente da dire, io sto aprendo una chiave energetica, alla fine è sempre un problema soltanto di energia. Se mi dico sto con l'uomo sbagliato e continuo a ripetermelo, io non ne uscirò. Se quando arriva il disagio della presenza di lui o di lei, io lo accolgo e lo guardo, io sto nel presente a guardare ciò che accade, allora il daimon, come dicevano i greci, il sé, il nucleo, la nostra semenza più profonda, interverrà perché non dobbiamo dimenticare che dentro di noi, al nostro interno, esiste un sapere innato che veglia sulla nostra interiorità, sulla nostra unicità, sulla nostra individualità. Molti di voi mi scrivete e mi dite, ma dottore con tutte le sovrastrutture che abbiamo, con tutte le sovrastrutture che abbiamo, come possiamo pensare che si attivi qualche cosa che mi conduce sulla mia strada? La risposta è semplice, il seme di ogni pianta sta facendo quella pianta, la tua semenza è sempre viva, identica, mentre tu non te ne accorgi, mentre tu stai pensando a lui che ti ha lasciato, a tuo padre che non ti ha voluto bene, a tua madre che ti ha trattato male, a tuo fratello che ha occupato il tuo spazio, mentre tu stai pensando a tutto questo, mentre tu stai decidendo che la tua vita è tutto questo, c'è qualcosa che pulsa e questo qualcosa sta facendo il tuo fiore, sarebbe un vero peccato che facessi il tuo fiore senza di te. Le vostre mail che arrivano sono tantissime, non potevo ovviamente rispondere a tutte, ne ho scelte alcune, ma ho scelto argomenti dall'abbandono, alla disistima, alle paure, al consumo di psicofarmaci, ho scelto quegli argomenti che ci permettono di vedere in ciascuno di noi le strade che abbiamo dimenticato e un tema che mi scrive una lettrice molto bello è che ho imparato a cambiare sguardo e soprattutto a ricordarmi che c'è un essere misterioso dentro di me, vedete la radice, la radice, il pensiero delle radici è quello che dobbiamo recuperare, cosa bisogna fare per recuperarlo? Niente, bisogna semplicemente distogliere lo sguardo dall'idea che ti sei fatto di te, della vita, di come si affrontano le cose, c'è un'email bellissima di una signora che mi dice io come mi succedeva qualcosa chiamavo subito le mie amiche, poi l'ho vista da giletti a una trasmissione e lei ha detto che se non custodisci i segreti sei un essere perduto, forse è inutile, è così, se non sai custodire segreti ti devi preoccupare, ma preoccupare tantissimo perché vuol dire che il tuo lato segreto è sparito e i meccanismi di auto guarigione, i meccanismi che superano i disagi avvengono soltanto nello spazio segreto che ti abita, così come la radice fa il fiore dentro di te c'è qualcosa che sta facendo te, proprio te. Non mi perderei per nessun motivo le vostre email perché io leggendo le vostre email capisco anche dove sono io, capisco come dico le cose, capisco se le dico bene o non le dico bene e soprattutto il messaggio che vorrei darvi è che essendo ciascuno di noi in viaggio non prefiguriamoci la meta, il viaggio lo sai, il nostro sai, non lo sappiamo noi, questo scrivete nelle vostre email, questo ho imparato dalle vostre email e questo fascicolo che troverete in edicola insieme a Rizza è il riassunto di molte delle cose che fanno parte del mio viaggio e spero anche del vostro. Buona lettura.